Ciao ad Antonio di Calzature Nucca, benvenuti e benvenute alla quinta puntata dell'Apriscatole e anche questa settimana andiamo a scoprire quali sono le nostre scarpe di moda che non fanno male a un prezzo speciale. Bene, appena trascorsa la buffata del Black Friday di questo mese di novembre caldissimo per gli acquisti, entriamo piano piano in dicembre e le temperature finalmente si sono abbassate. Ecco perché questa settimana abbiamo predisposto 8 scarpe, 8 modelli, 5 da donna e 3 da uomo, tutti con la suola abbastanza grossa, pesante e tutti adatti alle giornate fredde e invernali. Ora fai attenzione al modello che ti piace perché avrà un prezzo speciale solo per questa settimana. Partiamo subito con il primo articolo che esce dalla nostra scatola dell'Apriscatole e si tratta come vedi di una sneaker, una sneaker fatta a modello running con la suola alta 3 cm in color metallizzato opaco con i camosci naturali. Notare anche il particolare di questo sperone in effetto metallo. Sneaker molto leggera, dà la camminata facile e ondulata, quindi molto facile da portare con un look piuttosto chic. Questa sneaker costa 179 euro e per questa settimana la puoi avere a soli 143. Seconda proposta con uno degli articoli principali più belli della stagione, un bellissimo anfibio di Guglielmo Rotta in questo colore mud che si definisce quindi diciamo un tortro, un taupe, un colore neutro. Ha la zip laterale, il colore è abbinabile con tutto, il pellame è morbido e la suola è flessibile. Questo anfibio costa 278 euro di listino e per questa settimana lo puoi avere a 219. Terza proposta e altro best seller di stagione, i Beatles, come sai i Beatles leggermente alti sono molto diffusi in questo periodo, ma questo ha una particolarità, il tipo di forma, è anche la suola, la forma come vedi non è classicamente rotonda ma è un po' squadratina che rende questo articolo un po' più raffinato e anche la suola in rubrex questo effetto un po' mosso della suola che è molto nuovo. Per cui pur restando in quello che è un articolo mainstream molto diffuso questo ha delle caratteristiche diverse. Il prezzo di listino è 218 euro e per questa settimana lo puoi avere a 174. E per il nuovo articolo ora che vediamo e qui andiamo su qualcosa di un po' più particolare e diverso. Restiamo sempre nella fascia dello stivaletto tipo Beatles quindi con gli elastici laterali, molto facile da indossare. Restiamo in un colore neutro, in questo color avola si chiama quindi un colore, un camoscio color burro così molto neutro, però la particolarità sta nel tacco 50 e nella suola rialzata. Quindi abbiamo una bella suola e un tacco 5 che in realtà poi diventa un tacco 2 o 3 cm a causa appunto della suola. È comunque flessibile e comodo, dà un look molto grintoso e aggressivo. Il prezzo di listino è 245 euro e per questa settimana lo puoi avere a 196. E chiudiamo la collezione freddo donna con questa pedula particolare, una pedulina quindi allacciata, però con il tacco di 9 e il plateau e la suola in gomma di 3, quindi diventa un'altezza 6 di camminata. Questa è un prodotto piuttosto originale perché anziché essere classicamente raso terra ha il tacco e rende la scarpa davvero unica perché ti slancia anche se ti tiene al caldo il piede. Qui abbiamo una cerniera laterale che consente appunto l'ingresso, come vedi l'interno è tutto in pelle e la scarpa è comodissima. Il prezzo di 198 come base, ora questa settimana lo puoi avere a 158. Partiamo con le collezioni da uomo, finalmente eccoli è arrivato il vostro momento signori e la prima sneaker che vi faccio vedere, come vedi anche questa è adatta alle intemperie, quindi si tratta di una sneaker in camoscio militare con l'interno in pelliccia, plantare estraibile quindi molto calda. Questa sneaker ha un prezzo base di 239 euro e per questa settimana la puoi avere a 190. E per questo secondo articolo da uomo mi tolgo tanto di cappello anche se non ce l'ho perché si tratta di uno stivalino di moma e quindi qua ti faccio vedere la qualità del pellame, la qualità delle suole come vedi morbidissime, flessibilissime, ha uno stivaletto con la zip posteriore e un ingresso fantastico in pelle morbidissima. Abbiamo anche questa leggera piegatura che lo rende davvero unico e in piedi un guanto. Questo tronchetto costa 370 euro di listino e per questa settimana lo puoi avere a 295. E chiudiamo la rassegna settimanale con questo polacchino allacciato in color testa di moro, flessibile dal pellame morbido. Vorrei ricordarti, anzi farti sapere che questa scarpa calza circa un numero più piccolo del normale quindi se porti di solito il 43 sarà il caso che prendi il 44 o comunque vieni a provare in negozio il 44. Ecco scarpa comunque molto morbida, lacciata a fodera pelle e la suola a un bel carro armato stabile. Il prezzo è di 270 euro di base e per questa settimana lo puoi avere a 184. Bene prima di chiudere ti ricordo che in negozio troverai comunque delle offerte su un sacco di prodotti che potrai vedere anche sul nostro sito www.calzaturenucca.it, ma queste offerte specifiche sono valide fino a lunedì 5 dicembre. Per ultimo mi raccomando seguici su Instagram e appunto metti mi piace alla pagina per seguire tutti i nostri post, reel e varie cose che facciamo sul mondo del social. Da Antonio è tutto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!